Signore e signori, lo spettacolo sta per iniziare. Vi preghiamo di spegnere i telefoni cellulari e vi informiamo che non è consegnito scattare fotografie ed effettuare l'impresa a un inizio. Il Teatro Massimo Vincenzo Viglietti ringrazia e allora una buona sera. Mesdames e Messieurs, in qualche minuto ci sono altri spettacoli. Vi chiedere il vostro contatto e vi ringrazio che l'utilizazione di camera e l'apparello audiovisuale è appena. Il Teatro Massimo Viglietti ringrazia e noi vi vogliamo un grande buona sera. Grazie a tutti i nostri spettacoli e vi ringrazio a teatro Massimo Viglietti ringrazia.